Dimmi la verità, ti piace Dante o no? Sì, insomma, no. Sì o no? Sì, mi è piaciuto in passato. E poi? E poi ho scoperto che per lui ero solo un'amica, nient'altro che questo. Capisco. Ho fatto tutto il possibile per togliermelo dalla testa e anche dal mio cuore. E ce l'hai fatta? Cosa succederà? Scoprilo con i nuovi episodi di Callis Mashup. In Prima TV, a giugno, su Super. Grazie a tutti.